La situazione è stata di pochi giorni qua, praticamente una settimana fa, si è sbotta raggiù in Abruzzo, quindi è abbastanza un bel viaggio per andare a ritirare il premio. Per fortuna per noi è ormai un appuntamento annuale, nella rosa dei vincitori ci siamo sempre rientrati, la sorpresa di quest'anno del Vinsanto che onestamente non me l'aspettavo perché sulla categoria vini passiti presenti in tutta Italia, insomma, sono pochi, sono anche tanti, ecco, quindi questa è stata una bella soddisfazione. Vinsanto, secondo me, vale perché dietro al Vinsanto originale, fatto ancora come una volta, insomma, c'è tanto lavoro e soprattutto ci vuole tanta passione per poter portare a fine un prodotto che poi possa essere in primis gradito, insomma, dall'orchestra delle persone, ecco, questa è la cosa più importante, oltre al premio che sia anche, che deve piacere, che sia anche gradito e per quanto riguarda la mia produzione, insomma, meritendo molto contento e soddisfatto perché, insomma, diciamo, i primi che mi danno questa soddisfazione sono appunto qui la regione toscana, perché essendo venduto prevalentemente qui nella nostra regione, insomma, i risultati ci sono, oltre al premio ci sono anche questi risultati.